Successo ieri per il concerto di fine anno scolastico dell'Istituto Comprensivo Santa Marta Emanuele Ciaceri di Modica. Un nutrito gruppo di spettatori ha gremito la scalinata del Duomo di San Pietro per assistere alla performance dei giovani musicisti che si sono cimentati nell'esecuzione di diversi brani sotto la direzione del maestro Francesco Di Pietro, riscuotendo l'ambirazione dei presenti e del corpo docente che assisteva in prima fila. Molti degli spettatori erano i genitori dei ragazzi che si esibivano e abbiamo colto nelle loro espressioni il compiacimento per il successo dell'apprendimento musicale dei loro ragazzi. Per l'occasione è stato chiuso il traffico veicolare nel tratto San Pietro fino a Piazza Monumento per consentire l'esibizione dei giovani musicisti.